Mi chiamo Elisabetta Grillo e faccio ricerca sul cancro presso l'Università degli Studi di Brescia. Grazie alla borsa di ricerca sostenuta da Lactacid e Fondazione Umberto Veronesi per l'anno 2020, porto avanti il mio progetto sul tumore all'ovaio. In particolare, studio un recettore presente sulla superficie delle cellule tumorali che pensiamo possa guidarne la crescita e la metastatizzazione. In particolare, l'obiettivo del mio lavoro è quello di comprendere il meccanismo con cui questo avviene per poter presto sfruttarlo come bersaglio per la cura del tumore all'ovaio. Fare ricerca richiede impegno, dedizione e rigore. Spesso è un vero e proprio percorso ad ostacoli, ma dà spazio alla curiosità e alla creatività personale. Quando il risultato di un esperimento dimostra qualcosa di nuovo, ecco, quello è davvero il momento in cui capisci che fare la ricercatrice è il lavoro più bello del mondo. La ricerca scientifica può offrire ancora molto alle pazienti affette da tumore all'ovaio per garantire loro una cura sempre più personalizzata ed efficace ed è per questo che è importante continuare a sostenerla. Ringrazio Fondazione Umberto Veronesi e Lactacid perché con il loro sostegno posso dare il mio contributo alla lotta contro il tumore all'ovaio.